Davide Suppia, Country Manager Italy di Data4 Group. Il 25% dei CIO ha già adottato una politica di Hybrid IT, ma una parte esprime perplessità riguardo alla sicurezza e agli SLA. Qual è la posizione di Data4 a riguardo? Data4 suggerisce fondamentalmente due strade. Do it yourself, che significa che l'operatore definisce le strade da ottimizzare e quindi ovviamente noi riteniamo questa sia la strada un po' più onerosa, un po' più complicata, un po' più difficile, oppure appoggiarsi a quella che noi definiamo la Digital Hub. Il Digital Hub che cos'è? Fondamentalmente il Digital Hub racchiude tutta una serie di servizi che possono essere utili all'operatore, all'IT manager, per realizzare la propria infrastruttura. Attraverso che cosa? Per esempio l'interconnessione verso più di 100 operatori cloud, oltre 100 operatori cloud disponibili sul mercato, l'accesso a oltre 60 operatori nell'ambito ISP o nell'ambito DLC e soprattutto la possibilità di avere dei servizi tipo Storage as a Service o High Computer as a Service in maniera da poter ottimizzare al meglio le proprie infrastrutture. Fondamentalmente nel Digital Hub si racchiudono tutta una serie di servizi che possono accelerare la trasformazione del Libre IT. L'era dei big data e degli analytics richiede una sempre maggiore potenza computazionale e dunque un crescente utilizzo di risorse energetiche. Quali sono le politiche per la sostenibilità adottate? Dopo le diverse certificazioni ottenute tipo ISO 9001, ISO 27001, ANSI TIA 942, Data4 conferma la propria social responsibility puntando ad avere alimentari campus con energia puramente 100% green. Come lo facciamo? Lo facciamo richiedendo all'ente fornitore di energia elettrica la certificazione dello stato di origine in maniera che l'energia elettrica in qualsiasi maniera non venga mai rigenerata e quindi sia esattamente energia pura al 100% green. Quindi Data4 conferma dopo i nuoverevoli investimenti fatti in Italia anche in attenzione alla collettività e all'ambiente.